Ci troviamo qui a Colleisarco, sotto uno dei ponti principali della provincia di Bolzano, un ponte che deve essere risanato e che fa parte di 1.700 ponti che esistono in provincia di Bolzano che noi come provincia dobbiamo mantenere e rinnovare continuamente. Le problematiche dell'opera sono le interferenze con il fiume e le interferenze con il traffico. Per quello sono state studiate tre fasi di lavoro dove le prime consistono nel rinforzo delle elevazioni e delle fondazioni nel fiume e successivamente la demo ricostruzione dell'impalcato in tre fasi.